Questo programma è offerto da Tecnocampus Lunedì 25 marzo, buongiorno da Teleprima Benvenuti a questa nuova settimana e soprattutto a questa nuova edizione della Rassegna Stampa che come ogni mattina è offerta da Tecnocampus Cominciamo subito a vedere quelli che sono i fatti in primo piano tenendo presente che ieri ci sono state le elezioni in Basilicata e hanno rappresentato un punto di svolta per quanto riguarda il governo della regione visto che per 20 anni è stato determinato ed è stata guidata proprio la regione dal centro-sinistra adesso effettivamente quello che ci riportano i dati è un ribaltamento della situazione che passa infatti con il governo regionale al centro-destra ma cominciamo a vedere proprio i fatti sulle testate nazionali principali e partiamo questa mattina con il Corriere della Sera e infatti vediamo in apertura di pagina centro-destra ancora avanti il primato del centro-sinistra durava da 24 anni Tagliani, Forza Italia e ora il Piemonte e infatti vediamo in Basilicata in testa l'ex generale Bardi calano i 5 stelle, siamo troppo lenti premi e dati parziali che però sembrano tracciare una linea il centro-destra è in vantaggio anche nelle elezioni regionali in Basilicata e i 5 stelle in calo il centro-sinistra che governava la regione ha perso un primato che durava pensate un po' da 24 anni e Tagliani e ora tocca al Piemonte ma cosa ci dice questo voto? Le contraddizioni di governo, se è vero che tre indizi fanno una prova è probabile che sei regioni facciano quasi una certezza il centro-destra è vicino ad affermarsi anche in Basilicata dopo aver vinto in Molise, in Friuli Venezia Giulia nel Trentino Alto Adige, in Abruzzo e in Sardegna ma comunque continueremo a vedere le notizie che arrivano proprio in merito a questa situazione nelle altre testate nazionali adesso continuiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano proprio su questa testata e vediamo infatti nell'editoriale il PD cambi passo alla sinistra senza idee forti e vediamo infatti l'attacco di Paolo Mieli è possibile che già alle elezioni europee il PD cresca si ricollo che intorno al 20% e che forse oltrepassi perfino quella soglia qualora però il Partito Democratico riuscisse a scavalcare il Movimento 5 Stelle è probabile che lo si debba più al crollo del Movimento di Di Maio che alla crescita della formazione fondata 12 anni fa da Walter Veltroni comunque il risultato sarebbe degno di nota e il partito zingarettiano potrebbe essere aiutato in questa impresa dal recupero di alcuni fuoriusciti che a suo tempo seguirono Pierluigi Bersani e Massimo D'Alema nella sfortunata avventura di Liberi Uguali recupero con cui il nuovo segretario ha deciso di cimentarsi immaginiamo più per lanciare un rassicurante messaggio di ricomposizione che per provocare lo spostamento di reglini e di grande masse elettorali e ancora vediamo le altre notizie in primo piano passeggiate una visita difficile nella Roma delle cose rotte infatti ricapitolando per la tutela dell'ambiente ieri non siamo andati in macchina per un incidente non siamo andati in treno sulla Roma Cassino e per mancata manutenzione non siamo andati in metropolitana in tutto il centro storico e così inizia appunto questo articolo che viene proprio evidenziato nella prima pagina di questo quotidiano proprio per rendere partecipe un po' tutti di quella che è la vicenda che ha riguardato la maggior parte delle persone nella giornata di ieri proprio a Roma il bel tempo avrebbe ovviamente incrementato le passeggiate a piedi ma anche gli spostamenti in auto o in treno però ognuna di queste risultava complicata dalle avverse situazioni ovviamente non meteorologiche ma proprio di trasporto e quando non era il trasporto erano le strade rese sempre più colabrodio e ancora vediamo le altre notizie in primo piano un reportage proprio in prima pagina sul Po con un drone viene visto proprio il Po dall'alto e l'acqua a quanto pare si ritira infatti il grande fiume ha sete non piove da sette settimane e il Po in secca l'acqua si ritira la sabbia ha trasformato il paesaggio e infatti vedere dall'alto con un drone il corso d'acqua più lungo d'Italia mette tristezza gli agricoltori intanto lanciano l'allarme e nella parte centrale della pagina il caso cittadinanza ancora dura polemica tra Salvini e Sala sullo Iusso Soli dopo il sequestro dei ragazzini sull'autobus i 51 ragazzi sequestrati l'altro giorno sull'autobus e la vicenda dei ragazzi che comunque hanno cercato di fare il possibile per venirne fuori illesi adesso si manifesta ancora una volta il problema dello Iusso Soli proprio perché è stato proposto dal viceministro Salvini e anche dai suoi fedelissimi proprio di dare la cittadinanza italiana a uno di questi ragazzini che comunque è straniero infatti intimiditi forse un poco dalle luci degli studi Rai ma impettiti con in testa il berretto dell'arma con la fiamma d'argento eccoli da Fazio Rami e Adam i ragazzini eroi del bus abbracciati ai bravi e coraggiosi carabinieri che hanno collaborato a liberarli e cosa dicono i due ragazzi vogliamo diventare carabinieri anche noi insomma già un augurio per se stessi per quando saranno grandi e soprattutto una stima per chi gli ha reso possibile tornare a casa sano e salvo e ancora vediamo le altre testate nazionali passiamo ora al fatto quotidiano e vediamo che nella parte alta della pagina si incomincia a parlare di acqua pubblica otto anni dopo il referendum tradito in movimento all'occasione di togliere davvero i profitti ai privati infatti arriva in aula il testo proprio sull'acqua pubblica e ancora vediamo nella parte alta della pagina altro che a costo zero Olimpiadi la Lega emette il blef paga pure lo Stato un disegno di legge da 380 milioni e ancora ONG contro ONG l'inchiesta media parte indigeni in pericolo il panda smacchiato nella foresta in Congo e il WWF una volta di più sotto accusa e nella parte centrale della pagina articolo di apertura a proiezioni il centro-sinistra cede anche la Basilicata Salvini e Berlusconi avanti i bardi del centro-destra Movimento 5 Stelle lontano dalle politiche il generale scelto da Berlusconi sopra di oltre 7 punti sul candidato del PD dopo l'espload del 4 marzo il 44,36% 5 Stelle fermi al 20% la destra si prende anche la regione rossa del sud non era mai successo in 50 anni di storia e la Lega rischia di diventare primo partito 6 anni fa non si era nemmeno presentata insomma una situazione che si presta a un cambiamento notevole soprattutto a un ribaltone in termini proprio di centro-sinistra e centro-destra e ancora vediamo le altre notizie in prima pagina una notizia che viene direttamente da Napoli danni degli uomini 54 siti UNESCO a rischio il patrimonio è in pericolo sono tante le situazioni che si verificano l'ultima proprio rappresentata ieri a Napoli quando è crollato l'intero solaio e vediamo ancora guerre tutte le inadeguate sviluppo insostenibile mercificazione stanno distruggendo il patrimonio gli stati non vogliono che i siti siano dichiarati in pericolo per evitare danni d'immagine e ancora una volta il caso Italia torna al ribalta e ancora vediamo nella parte bassa della pagina la terra verso l'overbooking sarà sciopero delle nascite e questo per quanto riguarda l'Ultra Green il movimento che è nato in Inghilterra e ancora continuiamo a vedere le testate nazionali ci spostiamo adesso sulla verità e andiamo a vedere in che modo questa mattina apre e si parla della clinica dello scandalo per avere un utero in affitto basta andare a San Marino una società ucraina offre visite mediche nella piccola repubblica triffa 39 mila euro con 10 mila in più si sceglie la donatrice la femminista Terragni e il governo fermi questo schifo e ancora vediamo nella parte centrale della pagina è arrivato il momento di difendere la borghesia e gli amici di Casarini imbarazzano i magistrati fermi in appello i processi al centro sociale Pedro e il tribunale sembrerebbe persecuzione politica nella parte bassa invece da aprile stop indicizzazioni 3 milioni di pensionati con 10 mila euro in meno ogni mese questa è la vicenda che sta riguardando un po' tutti e che soprattutto dopo quota 100 vedrà una riduzione per chi già è pensionato della propria pensione ancora andiamo a vedere le altre testate nazionali ci spostiamo sul libro adesso però non esageriamo titola infatti così Pechino capitale d'Italia l'accordo con la Cina porta vantaggi economici ma anche rischi nel governo scoppia la mania Trial premier in partenza per l'Oriente Macron dopo averci criticato vede e fa affari con Xi Jinping Orbán intanto fa un appello alla Lega serve un'Italia forte contro gli immigrati e nella parte centrale della pagina Alessandra Mussolini caro Silvio non candidarti Salvini non è fascista e se lo dico io e ancora vediamo le altre notizie in primo piano l'Europa che farò col vostro Matteo eccolo qua e ancora sempre dalla prima pagina se cade il governo dice Sparisco Conte ci dà una doppia speranza racconta infatti questa mattina questo quotidiano e nella parte bassa della pagina eccoci qua già previste dalle grandi aziende pensate un po' decine di migliaia di assunzioni in vista ma ancora il lavoro duro solitario stressante ecco perché gli chef spesso attenzione questo è un allarme che viene lanciato proprio da questa testata si uccidono insomma è proprio uno di quei lavori sempre più stressanti che devono essere scelti assolutamente con passione ma indiscutibilmente tolgono tanto tempo alla vita ricordate sempre che gli chef lavorano tantissimo tempo quando noi ci riposiamo loro lavorano e soprattutto lavorano nel tempo libero nelle giornate più importanti spesso non possono stare con la famiglia insomma è una situazione che si presenta proprio sempre più articolata e ancora continuiamo a vedere le altre testate nazionali ci spostiamo ora sul tempo alberi e tronchi buttati giù dal vento e dalla pioggia sono ancora là sono passate settimane ma che aspetta il Campidoglio a rimuoverli eccolo qua infatti titola proprio così oggi anziché Roma Capitale si dedica tutta agli alberi al ramo Capitale ormai li vediamo crollati e ancora nella parte bassa della pagina ancora rifiuti in fiamme brucia il TNB di Rocca Cencia dopo il salario tocca l'impianto della Borghesiana allo smaltimento dell'immondizia torna ancora una volta al rischio e nella parte bassa della pagina per quanto riguarda lo sport ecca tombe giallo-rossa 67 infortuni per problemi al polpaccio anche per Resharawi la maledizione che a quanto pare continua e sembra non avere assolutamente fine ancora vediamo le prime pagine quotidiane vediamo il giornale Di Maio Game Over elezioni in Basilicata exit poll avanti il centro-destra dietro la sinistra tra Collo Grellino in un anno voti più che dimezzati e adesso il PD lucra sul bus dei ragazzini subito lo iusso sole questa la strage sventata e che adesso viene comunque utilizzata per porre in risalto questa situazione del diritto alla cittadinanza e viene definito proprio da questo quotidiano un virus pericoloso e intanto l'agonia finita per il presidente USA Trump assolto il caso Russia Gate era solo fango e ancora vediamo nella parte centrale insegnava a picchiare le donne ora l'imam fa lezione a Milano e questo è accaduto anche nel convegno islamico è ancora disastro capitale Roma città chiusa la metro ormai non esiste più e nella parte bassa della pagina eccoci qua sembra cambiare qualcosa se il calcio femminile vince convince e infatti era tutto pieno all'Allianz Stadium e ancora i maratoneti spazzini che fanno piazza pulita ed infine una svolta dalla Normandia alle ostriche ora in Francia le raccolgono pensate un po' i polacchi e con questa curiosità tutta estera vi lascio a qualche attimo di pubblicità ma tranquilli ritorniamo subito dopo grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecno Campus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecno Campus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecno Campus, la soluzione al centro. Ben tornati in studio, è sempre lunedì 25 marzo. Continuiamo a vedere i fatti nelle principali testate nazionali. Ci spostiamo adesso sulla Repubblica che nella parte alta riporta proprio questo titolo. Anche la Chiesa benedice lo Ius Soli. Parla infatti Monsignor Paglia, il ministro di Papa Francesco. Quella legge va fatta. L'esecutivo voli più alto. Sala contro Salvini sul ragazzo. Eroe, frasi senza senso. E ancora nella parte centrale della pagina, botta al governo, frana 5 stelle, Basilicata, le proiezioni, vince Bardi, uomo di Berlusconi. Il centro-sinistra perde la regione dopo più di 20 anni, grillini al 20%, dimezzato il voto delle politiche, sale la Lega, affluenza al 53,6% di Maio sotto assedio, ma Conte fa scudo. E ancora vediamo il commento, ecco i frutti del peccato originale e i giallo-verdi sconfessati dall'Europa. Intanto Luciano Canfora ha ragione Scalalfari, la destra leghista e l'ultima figlia del fascismo. E infine vediamo Trump, non ha agito in combutta con i russi, ma spunta l'altro reato, ossia l'ostruzione ai giudici. Insomma, quello che è stato definito già un verdetto più che ambiguo. Ed infine nella parte bassa della pagina si parla di Federica Pellegrini, in tv ho svelato La mia anima, è quella che viene definita appunto la seconda vita di questa atleta che adesso si svela proprio in televisione, capace di essere una protagonista, ma anche una giudice attenta. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sul messaggero, vince il centro-destra, crollo Movimento 5 Stelle, regionali in Basilicata, le proiezioni Bardi al 42,8%, centro-sinistra al 32,8%, 5 Stelle dimezzati 19,7%. La disfatta al sud, Di Maio sotto accusa, Conte esclude impegni in politica, finisco con questo governo. E ancora vediamo nelle altre notizie, la parabola grillina nell'editoriale di Campi, ritorno all'opposizione, una strada obbligata. E nella parte centrale della pagina, eccoci qua, la BRR è la prima italiana a vincere il titolo nel biathlon Dorotea con gli sci sul tetto del mondo. E infine vediamo da Roma il caos rifiuti, nuovo rogo in discarica, raggi, ipotesi, sabotaggio. E ancora ci spostiamo sulle altre testate nazionali, andiamo ad esaminare i fatti in primo piano su Il Mattino, in questa giornata, e vediamo nella parte alta della pagina, si parla di Enaudi, il pianista che sbanca il digitale, a luglio in concerto all'Arena Fregrea. E nella parte centrale di queste brevi di prima pagina, le scelte della squadra, la lista nera di De La Roentis, via chi non è adatto al gioco di Ancelotti. E la storia quando regolò l'African al Napoli, ma il presidente gli rispose no. E intanto vediamo nella parte centrale della pagina una notizia che sicuramente ci farà discutere tanto e soprattutto ci lascia con la mano in bocca. Infatti titola proprio così oggi, sabotaggio al Cardarelli, così ho evitato il morto, parla il primario Mauro che scoprì la manomissione dell'impianto salvavita, paziente in arresto cardiaco, l'allarme era fuori uso, è stato un atto criminale. E infatti con una spilletta, una normale graffetta da ufficio, erano state bloccate proprio le macchine, la segnalazione delle macchine che venivano attaccate alle persone che comunque avevano subito dei problemi al cuore o degli interventi e questi suoni, questi allarmi erano stati inibiti, insomma una situazione sempre più brutta che comunque andremo a esaminare dopo. E ancora vediamo il commento sulla pelle dei più deboli. E infatti è proprio così, criminali, potenziali assassini e vigliacchi, non c'è un modo diverso per dirlo e su questo per il momento mi fermo. Ancora vediamo nella parte centrale, ancora una volta Napoli a pezzi, la pista del garage sotterraneo, vediamo un attimo questa immagine e vedete che cosa è accaduto, sprofonda la chiesa, sfregio agli incurabili. È andata bene visto che comunque è accaduto in un orario mattutino, quindi quando ancora non c'era nessuno molto presto e quindi la situazione non è degenerata, però ovviamente quel che è il risultato per la struttura è pessimo. E ancora vediamo le inchieste del mattino, bloccati i fondi per gli orfani dei femminicidi, 2 milioni congelati dalla burocrazia, i costi ricadono sulle famiglie affidatarie. Infatti oltre 2 mila sono i bimbi rimasti orfani a causa di femminicidio negli ultimi 20 anni, bambini costretti a vivere senza genitori e con pochi mezzi economici. La burocrazia infatti tiene bloccati 2 milioni che dovrebbero invece aiutare le famiglie affidatarie. Ed ancora vediamo le idee se la giustizia si arrende alla violenza sulle donne. Abbiamo capito bene. Dunque la ragazza di 25 anni che ha denunciato di essere stata violentata da tre giovani conoscenti in un ascensore della Circo Vesuviana in realtà voleva essere stuprata. Questa è la domanda che si pone proprio oggi questo quotidiano e adesso lei dice me ne voglio andare da questa città. E come non capirla assolutamente. Ancora vediamo anche in questa prima pagina la Basilicata al centro-destra, vola la Lega, tracollo Movimento 5 Stelle, la regione all'ex generale Bardi, disputa al sud di Maio sotto accusa Conte dopo questo governo Lascio. E vediamo i 5 Stelle, il ritorno all'opposizione, strada obbligata. E intanto la sinistra al bivio tra nostalgia e neoriformismo. Intanto ci spostiamo nella parte bassa della pagina e andiamo a vedere ancora che cosa accade a Trump caso Russiagate il procuratore lo scaggione durante questa inchiesta. Infatti consegnato al congresso il rapporto su Russiagate non è stata trovata alcuna prova che dimostri che qualsiasi funzionario della campagna Trump abbia consapevolmente cospirato con la Russia in vista delle elezioni per la Casa Bianca del 2016. E nonostante l'assoluzione di Trump riguardo ai complotti con i russi rimane però aperta la questione dell'ostruzione della giustizia su cui è già chiaro che i democratici intendono dare vera e propria battaglia. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie ci spostiamo adesso ancora su un'altra testata nazionale andiamo a vedere il secolo XIX e nell'apertura basilicata al centrodestra Conte il voto regionale non minaccia il governo. Le proiezioni infatti premiano l'ex generale Bardi ma il premier dice non ci sono difficoltà e intanto vediamo Genova-Cina si parte dai binari e Dragaggi la regia sulle opere del porto di questo nuovo sviluppo. E ancora vediamo shipping e logistica domani col secolo XIX 16 pagine proprio per comprendere che cosa accade. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano ci spostiamo su un'altra testata che è la stampa anche su questo quotidiano il voto nelle regioni non minaccia il mio governo a parlare sempre Conte e infatti in Basilicata e Grillini in caduta libera ma nell'intervista al premier andiamo avanti novità nel contratto no a manovre correttive intanto nella parte centrale della pagina Russia-Gate-Müller assolve Trump e niente trame con Mosca. E ancora nella parte bassa della pagina il supermarket delle moglie 1000 euro pensate un po' per farsi dire sì un'inchiesta che viene proprio condotta da questo quotidiano e racconta di una storia che molto spesso è nota ma troppo spesso viene insabbiata e ancora vediamo quando la guerra fredda si combatteva col design vera propria mostra al MoMA e ancora vediamo altre notizie buone notizie per l'Italia le storie, la scuola che inventa il guanto parlante proprio per aiutare chi ha difficoltà e quindi ha una disabilità e intanto tra Italia e Svizzera sfida di calcio in quota col rosa sullo sfondo e ancora continuiamo a vedere le testate nazionali ci spostiamo adesso su un altro quotidiano andiamo a vedere la parte economica col sole 24 ore ed eccoci qua nella parte alta della pagina Imperia vince l'Oscar del clima Italia sempre più calda e intanto si parla di pace fiscale a rischio in successo i dubbi non allontanano le adesioni a poche settimane dalla scadenza manca la circolare per rilanciare la definizione agevolata del PUC e delle liti pendenti servono chiarimenti e ancora la doppia stretta sulle pensioni d'oro in arrivo da giugno e infine nelle province pronti ma fermi 1712 progetti pensate un po' per strade e ponti ancora tutto in alto mare e ancora vediamo da Italia oggi il reddito di cittadinanza che divide una famiglia di tre persone con solo 5.000 euro di entrate può ricevere un sussidio di 9.000 euro l'anno ma se si separa può arrivare a 23.000 euro e ancora vediamo nella parte centrale privacy sanitaria e raggi X dalla nomina del DPO ai dati Francesco Modaffer il dirigente garante aiuta a sbrogliare quelli che sono i casi più spinosi ed ancora ci spostiamo adesso è lunedì come sempre ci spostiamo sulla parte sportiva vediamo il Corriere dello Sport che cosa ci racconta in questa apertura e vediamo che si parte dall'alto con Kenna a braccia balo il primo millennial che ha segnato in azzurro giocherà in coppia con Super Mario ma Mancini vuole aspettare l'Italia domani con il Lichten 5 cambia Euro 2020 Germania a gran colpo in Olanda 2 a 3 crolla la Croazia e nella parte centrale della pagina Prandelli in intervista definitiva ma è tante verità in una sola volta Cesare Nudo dopo la nazionale con il calcio avevo chiuso sono rinato a Genova proprio come dopo l'Eisel amo Firenze ma la Roma è il mio grande rimpianto trovai l'accordo con l'Otito poi sparì e nella parte bassa della pagina il Milan chiamabiglia sul tavolo c'è il rinnovo del contratto e vediamo ancora donne da record meraviglia Juve in 40 mila allo stadium battuta per 1 a 0 la Fiorentina lo scudetto è ipotecato e intanto storica Ierar la Coppa è sua Biathlon Dorotea per la prima volta porta il trofeo in Italia un vero e proprio sogno e ancora vediamo tutto sport Juve Blinda Ken tutti pazzi per il Moese il suo contratto scade nel 2020 Paraticcio e Raio la trattano parla mamma Isabel grazie Agnelli te l'ho dato bambino l'hai trasformato in un vero e proprio uomo e ancora nella parte centrale della pagina a calcio e Biathlon una straordinaria festa della donna bellissime infatti Pedersen segna il gol che piega una grande viola e può fruttare il secondo scudetto di filale a Juve fantastico lo show dei 40 mila spettatori presenti allo stadium e Dorotea Wierer conquista la Coppa del Mondo la prima nella storia del Biathlon italiano al trionfo completo dal secondo posto di Lisa Vittozzi orgogliosa di me e dell'Italia e ancora vediamo nella parte bassa della pagina dalle cessioni Toro i soldi per Lazzari e 100 milioni su Scrinier la Fiat K.O. è un incubo per quanto riguarda il basket serie A contro Brescia e per quanto riguarda le prime pagine quotidiane per oggi è tutto vi lascio qualche attimo di pubblicità e ritorniamo subito dopo per vedere insieme i fatti che riguardano la regione Campania a partire da Napoli fino ad arrivare alla provincia di Caserta attiva l'attenzione a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tecno Campus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex San Goben Caserta. Tecno Campus, la soluzione al centro. Ben tornati in studio, ancora una volta siamo pronti per affrontare le tematiche che riguardano la regione Campania. Cominciamo subito con la cronaca. Questa mattina si parla di Napoli, la ragazza stuprata nella circunvesuviana sconvolta per la scarcerazione dell'aggressore. Vado via. Ormai sembra sempre più difficile essere tutelati da questa giustizia. E infatti dice la donna, la ragazza, sono molto stanca, ho bisogno di andare via da Portici per qualche giorno. Allontanarmi per trovare un po' di pace e di tranquillità. L'incubo per la 24enne, violentata da tre giovani nell'ascessore della circunvesuviana di San Giorgio a Cremano, a quanto pare non è finito. Anzi, sembra essere appena cominciato il 5 marzo l'aggressione brutale. 15 giorni dopo nessuna pausa, avvocati, medici, test e colloqui con i medici. E adesso lei viene a sapere che uno dei suoi tre presunti aggressori, diciotene Alessandro Sbreccia, è stato scarcerato dal tribunale del riesame. E che cosa accade? Accade proprio che lei si sente in difficoltà. E la sofferenza più grave è vedere la figlia soffrire, dice la mamma. Seguendo il protocollo, la giovane infatti viene seguita dagli esperti del centro antiviolenza del Cardarelli, che ha avviato una serie di test per aiutarla a uscire dal trauma, ma anche qui è questione di stress. La giovane è stata sottoposta due giorni fa, ad esempio a colloqui durate 5 ore, ha poi confidato al suo regale. Non posso dimenticare, se continua a parlare con i medici, ormai è successo. Cosa pensano di risolvere in questo modo? Insomma, una duplice visione di questa realtà. Da un lato la violenza subita, dall'altro il martirio continuo. Perché parlarne, parlarne, parlarne non sempre aiuta a risolvere una situazione, un problema, ma semplicemente a gettare acqua sul fuoco. E getta acqua sul fuoco proprio il rilascio di uno di quei tre, che non si possono neanche definire uomini, che le hanno utilizzato violenza. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo adesso sulla parte sportiva Napoli. Una idea di De Laurentiis per la Serie A. Potremmo giocare ad agosto nei principali stati europei. Su Ancelotti dice, già promosso, e con lui ho capito chi è da Napoli e chi no. E infatti la Serie A nelle principali città europee. Questa è l'idea di Aurelio De Laurentiis. Il presidente Napoli ha parlato prima del vertice tra la FIGC e la delegazione cinese in programma a Roma. Il numero uno del Napoli non sembra favorevole ad esportare una giornata del campionato in Cina. Sinceramente approfitterei del break di agosto per fare un assaggio di qualche partita importante in giro per l'Europa. Se ci potessimo far dare un bellissimo stadio a Parigi, a Londra, oppure a Berlino, Barcellona e Madrid, perché non cominciare lì il nostro campionato? Non sarebbe un tradimento nei confronti dei tifosi. Di solito sono a mare in quel periodo e quindi lontani dalle rispettive città. Insomma, una proposta per trascorrere un agosto differente, ovviamente senza la Cina. E ancora si parla di cronaca, Posidlipo, il mare torna blu, dopo che nei giorni scorsi era diventato verde. Si indaga adesso sull'uso di una sostanza usata da un privato. Infatti, si tinde i verdi e dei cittadini, il comitato Borgo Riva Fiorita davanti al mare di Posidlipo, ha come sfondo, e lo vedete nella foto, proprio un mare blu. Adesso, però, questo era quanto visto del verde smeraldo, che non prometteva niente di buono, arrivato dagli scarichi sotto forma di florescina, sostanza usata per i sondaggi delle condotte, anche del comune, che però in questi giorni non aveva eseguito indagini nella zona di Posidlipo. Il tracciante sarebbe dunque stato usato da un privato che sta eseguendo lavori per la costruzione di una piscina o per l'allaccio della rete fognaria. Avrebbe quindi fatto il sondaggio con il tracciante, non inquinante, per capire se il collegamento tra l'impianto fognario o con il mare, insomma, per un momento, l'allarme è sicuramente rientrato. E ancora si parla di allarme, questa volta però dall'Università Federico II, sui social dilaga il cyberbullismo. Secondo uno studio dell'Osservatorio Giovani, più di un adolescente su quattro è già finito nelle maglie della diffamazione via web, sono i social media. La nuova palestra delle socializzazioni per i giovani, una palestra perché la socializzazione non resta quasi mai limitata ai social. La rete di amici reali non viene soppiantata dagli amici virtuali, non del tutto almeno, ma certamente in rete che i ragazzi corrono i rischi maggiori con il progressivo aumento del cyberbullismo, del sex tiding, invio di messaggi sessualmente espliciti, della vendetta pornografica. Insomma, il web rappresenta sì uno strumento fondamentale, ma come dico sempre, rappresenta anche un'occasione di violenza, qualora già sia intrinseca nei soggetti che ne fanno uso. Insomma, bisogna imparare ad utilizzarli al meglio, perché utilizzati al meglio possono essere una risorsa ineguagliabile. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, si torna a parlare di Napoli, il 19enne ha coltellato a Chiaia, io mai più ai baretti, dice il ragazzo, infatti è stato lame, vodka e sangue. Torna il peggio della movida napoletana con tanto di grissi e coltelli, ancora una volta a Chiaia, il bilancio ai drammati, un ragazzo ferito e due aggressori ancora in libertà. Il ragazzo 19enne, residente a Scisciano, è finito in ospedale, il tutto è avvenuto sotto gli occhi di decine e decine di giovani terrorizzati. Insomma, una violenza sempre più dilagante, sempre più associata alla parola movida, che sembra non essere qualcosa di bello, allegro, divertente, quanto piuttosto qualcosa che è sempre più connesso alla violenza. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, vediamo che cosa è accaduto ieri a Napoli, sprofonda la chiesa degli incurabili, giallo del garage sotto il pavimento. Vediamo dalla foto quello che è accaduto, ecco qua il vuoto e il pavimento crollato. E infatti, quando il pavimento della chiesa di Santa Maria del Popolo degli incurabili è sprofondato, non era ancora l'alba, il rumore del crollo l'hanno sentito le persone che vivono nei paraggi, ma non hanno capito assolutamente quello che era successo. Sembrava semplicemente un boato lontano. A capire cosa era accaduto è stato il proprietario dell'autorimessa, che si trova in via Santa Patrizia alle spalle dell'ospedale e della chiesa, ha aperto la serranda, ha scoperto le macerie e ha lanciato immediatamente l'allarme. Subito è stato allertato il direttore sanitario dell'ospedale degli incurabili, Mariella Corvino e sono stati chiamati vigili del fuoco che sono intervenuti con immediatezza e sul posto è giunto anche Gennaro Rispoli, il medico che si occupa con passione del patrimonio culturale dell'ospedale. Sono state aperte le porte dell'antica chiesa fondata all'inizio del 1500 e si è scoperto che il crollo aveva interessato la parte retrostante, l'altare maggiore. Insomma, le bellezze di Napoli, ancora una volta soggette all'incuria e soprattutto al degrado sempre più dilagante. E ancora vediamo una buona notizia che arriva ancora da questa città, scope e palette, residenti fai da te per le grandi pulizie di Pasqua. Ed eccoli qua, il lavoro è iniziato intorno alle 9.30, è andato avanti per tutta la mattinata, armati di scope, palette, bustoni e tantissima buona volontà. I residenti del centro storico alto hanno infatti dato il via a una serie di appuntamenti che mirano non solo a ripulire il cuore antico della città ma anche a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di lavorare di più e meglio per una zona che loro stessi definiscono ancora una volta terra di nessuno. E fortunatamente questa situazione si riesce a trattenere proprio perché le persone continuano a lavorare. E ancora parliamo adesso del sabotaggio nell'ospedale Cardarelli così ho salvato un paziente, vediamo che cosa è accaduto. Infatti il sabotaggio ai monitor salva vita del Cardarelli e avrebbe potuto provocare la morte di un paziente. Ad evitarle è stata l'intervento del primario Ciro Mauro che si è accorto dell'anomalia e della manomissione, meno male diciamo noi. Da lì è scattata la denuncia che ha poi portato all'inchiesta della magistratura svelata dal mattino e affidata in asse sotto il comando del colonnello Vincenzo Maresca ed è maggiore Gennaro Tiano. Il malato era ricoverato in pronto soccorso cardiologico e il monitor centrale ha indicato un tracciato minaccioso per la vita dell'uomo. Era un sabato mattina di febbraio, sono andato in medicheria per rispondere al telefono racconta Mauro e mi sono accorto che il monitor segnalava una grave anomalia di un tracciato, una torsione di punta che precede pensate un po' l'arresto cardiaco. Subito fatto trasportare il paziente in Utica, l'unità di terapia intensiva coronarica e dopo due minuti è andato in arresto cardiaco, l'abbiamo massaggiato e rianimato e il giorno dopo, la domenica, abbiamo impiantato il defibrillatore e per fortuna oggi sta bene ma l'allarme lanciato proprio in relazione a questo sabotaggio rappresenta una minaccia gravissima per la salute di tanti cittadini che si rivolgono agli ospedali solamente per avere una tutela della propria esistenza e della propria vita. Ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo su Caserta News e vediamo che anche qui è tanta la cronaca e apriamo con l'aggressione razzista in piazza, denunciati due giovanissimi e sono stati ritracciati dalla polizia municipale e dai carabinieri. Sindaco, episodio gravissimo, vediamo che cosa è accaduto, infatti stiamo parlando di marcianese, hanno aggredito un gruppetto di coetanei solo perché albanesi l'odio razziale è stato il momento che ha dato vita alla rissa avvenuta proprio a Umberto, in piazza Umberto I. Per quella rissa che ha coinvolto diversi minorenni sono stati individuati e denunciati due giovanissimi marcianizzani, a riferirlo al sindaco di marcianise Antonello Velardi che attraverso Facebook ha spiegato come i due siano stati rintracciati dopo essere stati individuati dalle telecamere della videosorveglianza grazie ad uno specifico servizio di appostamento da parte della polizia municipale guidato dal comandante Alberto Negro. E insomma una violenza senza fine, soprattutto con uno sfondo razziale e soprattutto con una violenza ancora una volta intrinseca. E ancora cronaca, a coltella la madre e la sorella con le forbici arrestato ti ammazzo e ti taglio la lingua, poi le botte e le ferite i carabinieri evitano una strage. E folia a piedi montematese dove un cinquantenne ha ferito con un paio di forbici la madre e la sorella che vivono con lui. Per questo motivo l'uomo disoccupato è stato arrestato dai carabinieri di piedi montematese guidati dal capitano Francesca Baldacci il cui intervento repentino ha evitato che si consumasse una vera e propria tragedia. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano proprio su questa testata online e concludiamo proprio questa rassegna stampa con una notizia sportiva che riguarda Caserta e la sua squadra di volley femminile che firma una gran rimonte. Infatti la vola alto batte Perugia al tie break. Le casertane guidate da Frigo per 23 punti schiantano la capolista. E Caserta dimostra ospitalità a gioco e grande tifo con la prima volta nella storia casertana che i fedain della casertana arrivano al palazzetto insieme al manicomio a Canito dimostrando così che a Caserta è sana di principi, moralità e permettetecelo di dire può dare insegnamenti in tal senso. Al Palavignola finisce 3 a 2 con la golla in tulipo alto 2.0 Caserta che spinta dal pubblico batte la capolista Perugia e dà orgoglio così a tutta l'intera città. E con questa notizia terminiamo anche per oggi la rassegna stampa. Come sempre vi do appuntamento a domani stesso posto stessa ora e soprattutto vi auguro una serena giornata. ringrazio come sempre Tecno Campus che ci offre la possibilità di queste informazioni in tempo reale e soprattutto commentata e a voi tutti un grazie per essere stati con noi. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Questo programma è stato offerto da Tecno Campus Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti